Vecino prolunga colpo di testa e traversa di D'Ambrosio poi scarabocchia da due passi Skriniar doppia clamorosa occasione per l'Inter Guardate qui Skriniar forse leggermente disturbato ma un errore gravissimo dopo che va schiacciato un po' malamente D'Ambrosio centrando completamente la traversa quindi Skriniar disturbato anche da Giancarlo Gonzales Occasionissima per l'Inter fermata dal legno doppio legno perché poi anche Skriniar ha preso la parte superiore della traversa